Musica Conferenza stampa congiunta all'hotel Horizon di Montegranaro delle tre sezioni di Confindustria del distretto calzaturiero di Macerata a Scolifermo per fare il punto sull'ultima edizione del Mica. La numero 83 in programma Fiera Milano Rò dal 12 al 15 febbraio. A fare gli onori di casa Enrico Ciccola, presidente della sezione calzaturieri Confindustria Fermo, Salina Ferretti, presidente della sezione omonima di Macerata e vicepresidente di Asso Calzaturifici, Valentino Fenni, presidente Sistema Moda Confindustria Ascoli Piceno. I segnali che arrivano dalla più importante fiera internazionale della calzatura sono positivi, soprattutto quelli che riguardano l'affluenza, con una crescita del 5%, con 44.610 presenze che rafforzano la Kermess sul gradino più alto delle fiere mondiali, complice anche la chiusura definitiva della fiera di Düsseldorf. 1.405 gli espositori, di cui 795 italiani, 610 stranieri, per un settore che vale 14 miliardi di euro di fatturato. 221 le aziende provenienti dalle Marche, con 139 espositori da fermo, che la fa da padroni, 63%, 72 da macerata, pari al 32%, Ascoli Piceno con 5, Pesaro 3 e Ancona 2. I tre presidenti locali mostrano un cauto ottimismo nella speranza che questo trend positivo nelle presenze si traduca in ordinativi e fatturato. Il MICAM è una fiera già molto importante, grazie al lavoro che sono stati fatti negli ultimi decenni dai colleghi che ci hanno preceduto. Ci sono tutti gli elementi per cui posso diventare ancora più importante e questo ovviamente con il nostro grande piacere. Il MICAM è stato un MICAM positivo e il settore calzature-marche, nonostante vengano anni difficili, adesso è il momento per tirarsi sulle maniche, rimettere i piedi a terra, ripartire e conquistare i mercati che Mari in ultimi anni aveva un po' perso. Una fiera internazionale che dà quindi la possibilità di capire in quale direzione sta andando il mercato della calzatura in generale, soprattutto per i marchigiani, quindi quali sono i paesi più interessanti? Sì, è vero proprio questo perché il MICAM è una fiera molto internazionale sia come dalla parte degli espositori perché ci permette anche di confrontarci con quelle aziende che vengono dalle altre nazioni europee, le altre nazioni anche più lontane e i visitatori vengono da tutto il mondo e quindi è un momento sempre molto molto importante per capire il mercato cosa chiede. Il retail è cambiato molto, quindi abbiamo tanti clienti che sono molto più grandi, più strutturati di prima, il consumatore è cambiato, l'utilizzo che facciamo tutti noi della calzatura è cambiato, sicuramente è diventato, si è avvicinato molto alla moda, è un accessorio della moda, tutti noi indossiamo anche calzature più sportive, più comode, è cambiato un po' tutto, sono cambiate tutte le regole e il MICAM è sempre un momento di grande confronto e riflessione. Confindustria punta anche sulla formazione, lo farà sempre di più, un'attenzione particolare al mondo della scuola? Sì, è vero perché la parte innovativa è molto importante, mi permetto di dire una cosa che invece non è nuova per niente, è un po' antica, ma a volte noi facciamo fatica a trovare persone che possono lavorare con le aziende che parlino bene l'inglese o il tedesco non se ne parla, invece i mercati nord europei sono molto importanti. Poi in questo momento, come dicevamo prima, mancano anche altre figure professionali per cui come Confindustria stiamo offrendo dei corsi per stilisti, per modellisti, per esperti anche di grafico e conoscono bene il web perché nessuna azienda può pensare di essere presente sul mercato se non ha un sito internet fatto bene, se non se la sa giocare sui social e quindi servono delle figure nuove e anche in questo caso purtroppo nella nostra regione si fanno fatica a trovare delle persone preparate, quindi giochiamo a offrire dei corsi nuovi ma anche giovani che stanno ancora studiando, che hanno finito di studiare, guardi con un po' d'attenzione al nostro settore, tutti ce la giochiamo sul bello e quindi la parte marketing esperienziale diventa sempre più importante. Con un mercato interno ancora in difficoltà le attenzioni si concentrano sulle presenze estere. La Russia ha registrato una crescita del 18% così come l'Ucraina, più 20% anche se la miglior performance aspetta la Corea del Sud, sempre più attratta dalla qualità del Made in Italy. Diciamo che il MIGAM è di per sé la fiera internazionale della colzatura più importante al mondo, quindi è una guarda ai vari paesi che continuano a venire in maniera più o meno massiccia, dipende dalle situazioni del mercato, dal tipologia del prodotto che ogni azienda fa, di avere più o meno ordini dalle varie parti del mondo. Russia? Russia stazionaria con un rublo che si è rivalutato del 10% nonostante le sanzioni che stanno un po' affiaccando l'economia russa. Asia? L'Asia-Lagina è una ripresa nella fascia alta dei prodotti, dei marchi del lusso e anche un aumento di piccoli clienti che apprezzano le calzature italiane in negozi multimarca. Significative le novità di Rompenti apportate da Anna Rita Pilotti, presidente di Asso Calzaturifici e del Demicam, che con la prossima edizione, quella autunnale, è riuscita a spostare le date, facendo coincidere l'ultimo giorno di fiera con quello di apertura della settimana della moda, creando così quella giusta sinergia finora sottovalutata. Questo cambiamento è stato un impegno importante della nostra presidente, che è stato reso possibile dalla federazione che abbiamo fatto con le associazioni della moda. Io credo che dobbiamo renderla sempre più importante, partendo da aziende importanti del territorio, fatto riferimento alla Nero Giardini del Fermano, alla Santoni della Macerata, a Moreschi del Veneto e riportare altri marchi del lusso dentro la fiera. Questo è un obiettivo per dare ancora più importanza alla calzatura come nel sistema moda. Questo è un elemento importante. Con le marche e con questo distretto che vuole essere anche capofila di alcuni progetti importanti? L'impegno nazionale che possiamo implementare per il riconoscimento del Made in a livello di Consiglio europeo è la questione primaria. Dobbiamo indire gli stati generali e celebrarli dopo un certo periodo di tempo con il supporto delle università per valutare a 360 gradi le difficoltà e le potenzialità del distretto a dare delle soluzioni. Se da una parte gli addetti ai lavori esprimono cauto ottimismo, resta forte la convinzione di mantenere alto il livello di guardia, cercando un dialogo fra imprese, associazioni di categorie e istituzioni. C'è un cauto ottimismo, più presenze, più visitatori, più ordini, purtroppo non per tutti, ma ho visto corridoi pieni, gente moderatamente ottimista e moderatamente contenta anche vedendo che è l'inizio della stagione delle vendite. Dopo questa conferenza stampa tutte e tre territoriali unite, auspichiamo una maggiore collaborazione fra tutti noi anche a livello di associazione al fine di superare molte problematiche comuni e anche in modo che le istituzioni possano aiutare il settore. Sono stati presentati anche i dati della cassa integrazione, è stato fatto il quadro della situazione. Certo, siamo a tanti anni dall'inizio della crisi e molte aziende non ce la fanno, non ce l'hanno fatta. C'è però un vento di cambiamento, si stanno modificando alcune condizioni? Auspichiamo adesso con l'arrivo di Ciccola per il Made in un ritorno alla produzione nazionale. Speriamo che i clienti si innamorino meno dei prodotti esteri e più dei prodotti nazionali. Comunque la concorrenza è notevole, è impressionante e crea danni sul territorio, sull'indotto oltre che sugli imprenditori calzatori. Elemento positivo anche il fatto che il prossimo MIGAM si chiuderà il giorno che inizia la settimana della moda? Un'ottima iniziativa, ringraziamo la Presidente Pilotti dell'impegno che ha messo nel spostamento delle date, nel fatto dell'inserimento della settimana della moda e tutto quanto sta facendo per il settore, per l'associazione e per noi fabbricanti. Grazie a tutti!